All'Università del Piemonte Orientale a Novara, la consulta delle elette del Piemonte ha presentato il progetto La Città Sicura, l'approccio di genere alla sicurezza urbana, manuale di interventi sulla città per la sicurezza delle donne e delle persone vulnerabili. E' intervenuta la consigliera Giuliana Manica, presidente della consulta. L'evento è stato promosso in collaborazione con il Comune di Novara e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale.